Hypertech Solution, una delle più importanti realtà italiane di ingegneria multidisciplinare che da quasi 30 anni progetta innovazione industriale e tecnologica per grandi marchi europei e internazionali, ha inaugurato nei giorni scorsi una nuova sede operativa nella città metropolitana di Catania. La scelta della direzione di Hypertech che ha deciso di inaugurare questa terza sede oltre alle due già operative in Emilia-Romagna e in Veneto opera in totale controtendenza rispetto alla consuetudine dell'espatrio, tipico di tante imprese italiane. L'evento ha attirato una moltitudine di ospiti istituzionali, accademici ed imprenditoriali che hanno voluto confermare con la loro presenza l'interesse e la vicinanza per questa iniziativa. L'apertura di questa nuova sede operativa nel Sud Italia offrirà interessanti opportunità lavorative per i neolaureati. Le realtà accademiche troveranno un concreto supporto da parte dei tecnici di Hypertech per proporre attività di tirocinio e realizzazione di tesi o per organizzare progetti di ricerca in ambito accademico-industriale, mentre le imprese locali potranno avvalersi di nuove soluzioni ad alto contenuto tecnologico e dell'esperienza e dei servizi innovativi che Hypertech Solution propone. Nelle interviste i commenti di alcuni degli intervenuti. Penso che questa apertura di Hypertech a Catania sia fondamentale perché si fa integrare benissimo col terreno universitario che abbiamo, con gli indirizzi, per esempio nel mio caso il corso di Automation Engineering. Infatti già abbiamo una collaborazione didattica che mi auguro porti proprio alla formazione di competenze che si vanno a integrare anche in questo contesto aziendale e possono arricchire sicuramente ambo i lati, sia l'azienda che sicuramente anche il contesto universitario. Ho il piacere e l'onore di rappresentare un corso di laurea magistrale all'Università di Palermo, l'ingegneria aerospaziale, che ha contatti da tempo con Hypertech. Un nostro studente ha contribuito in maniera determinante all'apertura di questa sede qui a Catania e quindi questo per noi è un piccolo motivo di vanto. Io credo che l'apertura di questa sede sia un fatto bellissimo perché contribuirà sicuramente a riportare talento in Sicilia. Noi siamo molto interessati, abbiamo già stabilito i rapporti in ambito di triocini per esempio curriculari per i nostri studenti. Penso che questa sia un'opportunità fantastica per i nostri laureandi. Potranno avere l'opportunità di sviluppare tesi anche in seno ad Hypertech e credo che ci sia un grande potenziale sia per noi come corso di studi, come istituzione universitaria in Sicilia, ma anche per Hypertech stesso. Credo che sia una grande occasione per ritenere, trattenere talento in Sicilia e fare crescere i nostri ragazzi senza la necessità imperativa di andare fuori per forza. Noi all'Università di Messina crediamo moltissimo al contatto con le aziende, soprattutto quelle del territorio. Quindi l'apertura di realtà importanti come questa sul territorio che ricadono nel territorio siciliano, che in qualche modo possono collaborare con noi in termini di ricerca, di sviluppo e anche per la formazione dei ragazzi che fanno ingegneria da noi, è sicuramente una cosa importante che ci consente di non solo dare un in più ai ragazzi nella formazione, ma anche di poi creare i contatti che possono garantirgli l'avvio al mondo del lavoro. Questa è una grandissima opportunità per la Sicilia. In un tempo in cui le cose si possono fare telematicamente uno può pensare che la località non sia più importante. In realtà la vicinanza comunque aiuta. Quindi il fatto che Hypertech Solutions si sia avvicinata a noi ci fa veramente piacere e noi ci vediamo davvero tante opportunità. Tra l'altro noi all'Università di Palermo abbiamo vari corsi che sono molto interdisciplinari, ingegneria aerospaziale, dei sistemi ciberfisici per l'industria, ingegneria elettronica e altre, che sono molto interdisciplinari, quindi noi ci vediamo anche in questa una possibilità in cui i nostri studenti possono collaborare con una bella realtà come Hypertech. L'inaugurazione è stata un successo, tutti gli ospiti sono stati contenti, noi siamo stati contenti di avere tante personalità presenti in serata. È stato bello anche vedere l'entusiasmo dei ragazzi per questa iniziativa, tutti erano contenti ed erano motivati perché hanno visto che l'azienda fa tanto non solo per quello che è l'utile, tante aziende parlano di utile della parte economica, invece noi facciamo qualcosa nella realtà legato al fattore umano. Ci stiamo muovendo in questa direzione, abbiamo aperto questa sede perché crediamo che possano avere una vita felice vicino ai propri cari, nella propria terra, quindi ci stiamo muovendo per riportare in Sicilia quello che sono delle risorse siciliane, quindi è un moto d'orgoglio che ci ha mosso in questa direzione e siamo contenti nell'aver visto i ragazzi entusiasti per questa nostra scelta. È stato un piacere conoscere e approcciare tutte le istituzioni del territorio siciliano, siamo stati accolti a braccia aperte dall'università, stiamo organizzando con loro tante attività che possono avvicinare a nuovi ingegneri, siamo contenti di come ci ha approcciato Confindustria e tutte le istituzioni catanesi che ci hanno aperto le porte, anche loro entusiasti di questa nostra scelta strategica o filosofica, non lo so, però sicuramente è una scelta controtendenza quella di avvicinarsi alla Sicilia, riportare personale in Sicilia e portare un'attività imprenditoriale in questa regione. Questo è un qualcosa che a noi è riempito di orgoglio ma sono veramente entusiasti e contento di come hanno risposto le istituzioni in tutte, dall'università, le ordine degli ingegneri, il comune e via dicendo. Un bellissimo inizio, spero che il proseguo sia tanto entusiasmante e pieno di soddisfazione per noi. Oggi è una gran bella giornata, penso che sia una bella festa, un piccolo germoglio di un'iniziativa importante che può portare ricchezza, lavoro, in una città, in una regione che sta dando molti talenti e che riteniamo possa essere un boost di sviluppo importante per la nostra azienda. Credo che Hypertech ha dimostrato negli anni di essere una grande opportunità per i ragazzi che escono magari dall'università come scuola per imparare il mestiere dell'ingegnere. Operando in tanti settori diversificati, barenautico, automotive, oil and gas, macchine automatiche, da noi un ingegnere laureato ha stimoli molto diversificati, diversi, sfide molto importanti. e non lavorando in un solo settore quindi ha costretto quotidianamente a confrontarsi sulle nuove problematiche, questo allena la mente, l'elasticità mentale, le competenze, il fatto di lavorare in team con persone anche esperte di altri settori. Credo che sia una crescita professionale accelerata che dopo pochi anni gli garantisce una preparazione molto più alta rispetto a una pari diciamo coetaneo che è entrato invece magari in un'azienda e entra a fare un lavoro molto specifico in un unico settore. Questi mesi saremo presenti in tante università della Sicilia direi in tutte le università siciliane e in tante università del sud. Io spero che i ragazzi che vogliono collaborare con Hypertech, che vogliono iniziare a lavorare con noi, si presentino in questi incontri ma chi non possa farlo può sicuramente collegarsi ai nostri social e mandare qualsiasi accenno legato al loro interessamento saremo poi noi a contattarli. Per le aziende chiunque sia interessato anche qui ai nostri contatti noi saremo presenti in tante iniziative di Confindustria a Sicilia quindi sicuramente ci saranno le occasioni per incontrarci e saremo veramente orgogliosi di poter parlare e intraprendere insieme alle aziende siciliane un percorso comune di sviluppo e di innovazione. L'inaugurazione di Catania è stata anche una straordinaria occasione per far conoscere meglio agli ingegneri delle altre sedi di Hypertech Solution, agli ospiti istituzionali, partner commerciali, collaboratori e clienti intervenuti all'evento, gli aspetti culturali, turistici e denogastronomici del territorio etneo, un percorso costellato di piacevoli momenti che hanno immancabilmente regalato sorprese ed emozioni indimenticabili.